Mi ha appassionato la storia, mi ha appassionato e mi ha fatto innamorare di questa regione fantastica dove mi sono reso conto che è praticamente ideale per girare film perché a mezz'ora stai al mare, a mezz'ora stai in montagna quindi un territorio meraviglioso a due ore da Roma e questa è una storia che sarà un po' anche apripista di un progetto che faremo per i prossimi anni un progetto industriale che porteremo film nazionali e internazionali qui sulla regione proprio per valorizzare il territorio Sarà Rapino, piccolo centro in provincia di Chieti il set cinematografico per la realizzazione del film Troppa Famiglia diretto dalla regista Perluigi Di Lallo e prodotto dalla Gatto Film una grande occasione per propagandare le bellezze della nostra regione nell'ambito di un progetto inserito nell'Abruzzo Film Commission Stiamo soprattutto iniziando un percorso importante che si concretizzerà con la prossima programmazione dove abbiamo messo risorse importanti sulla Film Commission perché riteniamo che tramite questo strumento l'Abruzzo possa esaltare le sue bellezze d'altronde i risultati di questi 20 mesi di attività, di promozione credo che si stanno vedendo Un film diventa uno strumento di comunicazione per arrivare al cuore dei cittadini non solo per valorizzare l'aspetto del nostro territorio ma nasce soprattutto con l'idea di diffondere nell'opinione pubblica le buone pratiche ambientali quindi l'importanza del tema attuale che sono i cambiamenti climatici quindi nasce proprio da questa esigenza